Ciao ragazzi, sono F e questa sera sono qui al Push e la mia special guest è Marco Lins. Buonasera Marco e benvenuto qui a Push. Quando uscirà il disco con le Nervo? Allora, il 23 dicembre, non ci giriamo tanto intorno al 23 dicembre, 23 dicembre sì, 2013. Questo pezzo è anche molto annunciato, io mi ricordo quest'estate hai pubblicato un post, te lo leggo, I'm very happy to announce that I will show you my Deep House collab where it's Nervo very soon is something you wouldn't expect. Brava, hai scovato una cosa che mi ero dimenticato anche di aver scritto. Oltretutto 13.000 like in pochi minuti, come te lo spieghi? Penso perché sono bello, no, le Nervo ovviamente, non per me. Comunque mi ha fatto molto piacere, è stata una notizia che effettivamente ha suscitato molto interesse tra i fans. Sì, l'avevo pubblicato a luglio perché il pezzo a luglio era già pronto, è stato testato da me e da le Nervo e dopodiché finalmente abbiamo avuto la data dell'uscita ufficiale che come tante volte accade è molto in là con i mesi e quindi per dicembre vedremo il disco, anzi vedrà finalmente la luce. Ma come è nata questa collaborazione? Ma è nata un po' per caso, è stato grazie al mio manager di allora, Aga Heller, che praticamente sapendo che le Nervo suonavano i miei dischi all'epoca ci ha messo in contatto e da qui praticamente è nata la collaborazione. Come sono le ragazze, le sorelle, le sis? Beh, che sono belle si vede, lo sanno, però oltre a queste sono molto simpatiche. Sono veramente positive, solari, brave. E poi loro si chiamano Mim e Liv. Sì, sono di origine italiana, non mi ricordo se i genitori o i nonni tra Trieste e Bassano del Grappa. E' erano qui di Bassano. Ecco, vedi, sì, sapevo che erano qui della zona. Insomma, 23 dicembre. Sì, lo aspettiamo e vedremo che cosa accade. Marco, insomma, sei uscito su diverse etichette. Ricordiamo Great Stuff, Skind, 100% più e tra poco Spinning Record. Quali altre novità? Altre uscite alle quali sto lavorando per il 2014, quindi così. Come è andato il 2013? Siamo in dicembre, facciamo un riassunto. Ma sono molto soddisfatto perché ho appunto fatto molte uscite su queste etichette molto importanti. E serate, ho avuto delle serate veramente importanti come il departure con Axel Ingrosso all'Ushuaia. Diversi festival in Olanda molto, molto belli. E la serata Bali in Indonesia che mi ha permesso, insomma, di viaggiare per il mondo quest'anno e sono molto contento. Incrociamo le dita per il prossimo anno. Assolutamente. Noi speriamo di ritrovarti a Ibiza, prossima estate, a parte che noi siamo italiani. Ci ritroveremo sicuramente in giro. In bocca al lupo, un buon Natale e un fricciato nuovo. Grazie. Grazie mille Marco. Marco Les. Ciao. Ciao. Ciao ciao. muốn